Uno streminzito 0-0 fra tensioni, preoccupazioni e timori. Il Bitonto si ferma proprio sul più bello, proprio sulla palla calciata da Santoro che scheggia la traversa, proprio quando doveva rialzarsi dopo il K.O. di Lavello. Il Cerignolo invece colleziona il decimo risultato utile consecutivo e mantiene la testa del girone H di Serie D, questo sì, ma fa salire sul primo gradino del podio il Francavilla. Al Città degli Ulivi, nel giorno dell'Immacolata, finisce senza nemmeno un gol, ma il ramarico dei padroni di casa per la traversa colpita da Santoro è immenso, una secchiata d'acqua gelida, perché dopo la disastrosa uscita di Tricarico era davvero tutto apparecchiato. Formazioni, De Luca senza Lonuce e Biason, Saffida al 4-2-3-1 e conferma Guarnaccia, Petta si sposta a sinistra, tra i palici e Martellone, prima maglia da titolare per Turitto, nel tridente con Palumbo e Lattanzio alle spalle di Santoro. Mister Pazienza, dall'altra parte, sceglie il 4-3-3, torna a Maltese, Loiodice, Palazzo e Mincica sono le bocche di fuoco, a Cic, Longo e Malcore, si accomodano inizialmente in panchina. La fase di studio dura un quarto d'ora, il primo pericolo è del Bitonto, colpo di testa di Colella a lato su cross di Lattanzio, poi il Cerignola con Agnelli che legge la partita come nessun altro, inizia a mettere la testa fuori dal guscio, Guarnaccia scivola, ne approfitta a Mincica, blocca a terra a Martellone, mentre Loiodice, su punizione, ci prova col destro, ma la scaraventa fuori di un soffio, fa la cosiddetta barba al palo. Ancora audacia, cavalo della mezz'ora, azione insistita del Cerignola, Bitonto sempre attento, il destro di Tascone dal limite, a metà fra un tiro e un cross, si spegne sul fondo. I padroni di casa replicano sull'asse Santoro, Lattanzio, assist del primo, sinistro alto del secondo e poco prima del 45esimo, non sfruttano un errore di manzo, Tricarico esce su Santoro ed evita guai peggiori, 0-0 al riposo. Si riparte e dopo soli 180 secondi il Bitonto potrebbe segnare, favorito da un'uscita disastrosa e siamo buoni, di Tricarico. Turitto al primo tentativo, calcia verso lo specchio ma trova Dorval, ultimo baluardo, Santoro al secondo, scheggia la traversa, incredulita al Città degli Olivi e tifosi nero-verdi con le mani nei capelli. Manzo dai 30 metri chiama Tricarico ad un intervento tutt'altro che concreto, mincica, lo imita sull'altro versante, martellone blocca, il secondo tempo non prevenuto, è tutto qui, finisce 0-0 il Bitonto, si rammarica per aver sprecato l'occasione più ghiotta di tutto il match, al Cerignola, tutto sommato, va bene così.